Siracusa ha denunciato un uomo per furto e ricettazione. Poco dopo la mezzanotte, agente delle volanti sono intervenuti in via Lorina, presso il bar di un distributore di benzina, dove poco prima un uomo, dopo aver infranto il vetro della porta d'ingresso, si introduceva sportando alcuni pacchetti di sigarette e due birre per poi allontanarsi a bordo di un'autovettura. Attivate le ricerche, i poliziotto riuscivano a bloccare l'altro che veniva identificato per un uomo di 44 anni che veniva trovato ancora in possesso dell'area furtiva. Inoltre dai controlli è emerso che lo stesso viaggiava a bordo di un'autovettura risultata rubata e per tali motivi, oltre che per il reato di furto, è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.